Ciao ragazzi, venite con me a fare una sorpresa da alcune ragazze che sono qua con noi e andiamo a fare due chiacchiere con loro. Andiamo! Quindi non importa quante volte cadi, l'importante è che poi ti rialzi e vai a prendere quell'obiettivo in mano. Ciao! Ciao, ragazzi! O avete qualche paura anche rispetto allo sport che vorreste fare? C'è qualcosa che vi ferma, che vi blocca? Sì, nello sport, diciamo le prime volte che giocavo mi prendevano in giro perché ero troppo scarsa e soprattutto maschi e quindi mi faceva sentire inferiore però poi sono andata avanti e ho fatto del mio meglio per diventare ancora più forte fino ad oggi che comunque vinco tornei e partite. Perché nonostante io faccia pallavolo non sono nemmeno fu di tanta brava e dove hai trovato la forza di dire ok, da adesso inizio? Ho imparato a, cioè, sempre a non reagire in modo negativo ma, cioè, a fregarmene, però è una mia passione io continuo a farlo, nonostante tutto. Molte volte non ti senti all'altezza magari delle altre e allora hai paura di iniziare e dire magari non sono brava e quindi a volte magari ti freni un po' prima. E invece al posto di frenarsi cosa devi fare? Rialzarti e dire no, se mi alleno riesco ad arrivare al vero. Se pensi di non essere abbastanza brava a fare qualcosa ripetila talmente tante volte che riuscirai a farlo bene per forza. C'è una vostra insicurezza che lo sport vi ha aiutato a superare? L'altezza. L'altezza? Perché? Sono una delle più basse. Pure le mie compagne, loro non mi prendeva in giro, cioè, non mi scoraggiavano. Anzi, mi dicevano, oh, sei forte per la tua altezza, anche se non sei nemmeno così tanto bassa, sei forte. Cioè, pian piano ho cominciato ad accettarmi di più. Quindi i compagni di squadra fanno la differenza? Sì, a volte sì. E ho avuto molte amiche che, cioè, che loro sono cadute, io le ho aiutate, e quando è successo a me anche loro mi hanno aiutato. Qual è la cosa che vi piace più di voi stesse? Sì, perché sono coraggiosa in altri momenti più... Di me forse mi piace che quando non riesco a fare una cosa cerco di farla lo stesso, anche se poi dopo so che non viene... cioè, anche se poi non viene bene. E siamo unici tutti, anche magari chi ha magari una mano in meno, chi ha quella macchia in più, siamo tutti uguali. You got this! You got it, girl, I got it, girl, Never doubt yourself, girl! Ha, 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 ha!